Franco Gaudio, pur lavorando a Cosenza, è inserito nella rete nazionale di cooperazione. Quanto è importante questo progetto? Abbiamo sentito il Presidente Pileggi oggi relazionare e cosa ha davvero realizzato di importante? Il progetto è sicuramente importante perché riesce a rompere l'isolamento delle aree rurali, soprattutto le nostre aree interne e quindi si proietta in una visione europea, in questo caso nel Mediterraneo, un Mediterraneo che come abbiamo sentito è un'area non tanto di cooperazione ma di conflitti e questi progetti secondo me tendano a far vincere l'Europa della cooperazione rispetto all'Europa dei conflitti. Possiamo dire che nella crisi che stiamo vivendo e in quella che l'aggressività della globalizzazione, la ruralità può essere veramente l'elemento che mette il Paese nelle condizioni di lanciarsi? Sicuramente sì perché in un sistema ormai globalizzato quello che è importante sono le specificità a livello locale e le specificità a livello locale in questo progetto come in tanti altri di cooperazione vengono fuori e quindi si vanno ad inserire all'interno di un sistema globalizzato con delle specificità particolari, non omogenizziamo tutto. Grazie a tutti!